Musica Questa serie delle telecamere di Synapse News e Napoli News Magazine sono qui al Castel del Lovo di Napoli dove si svolgerà, si sta svolgendo in realtà Vitigno Italia alla terza edizione di un'importantissima manifestazione di produzione di prodotti autotoni del territorio seguiti dal servizio. Quattordicesimo salone dei vini e dei dintorni, territori di vinicoli italiani, Vitigno Italia, Castel del Lovo, Napoli. Siamo all'interno di uno dei sei saloni allestiti per questa straordinaria fiera del vino, perché di fiera si tratta. È un evento straordinario dove possono essere assaggiati i migliori vini della produzione italiana. Vitigno Italia per Synapse News e Napoli News Magazine, Sergio Anglissano. Vitigno Italia per essere il nel